Buongiorno a tutti, oggi vi mostro come connettere un sistema di accumulo Sunny Boy Storage con batteria BYD. Una volta rimosso il Sunny Boy Storage dalla propria confezione, si presenterà in queste sembianze. Ci sarà la sua cover, un'altra cover inferiore che sarà da rimuovere per andare ad effettuare i vari cablaggi. In un sacchettino a parte troverete un set di connettori, nello specifico sono questi, vale a dire il connettore lato AC ed il connettore per la comunicazione tra Sunny Boy Storage e batteria BYD. Terminato l'assemblaggio dei vari moduli della batteria, è ora possibile procedere con l'installazione del cablaggio elettrico e dati. Per prima cosa andiamo a prendere i connettori SunClix in dotazione nella confezione del Sunny Boy Storage per andarli a montare con i rispettivi cavi che saranno quelli della connessione DC della batteria. Abbiamo rispettivamente polo positivo e polo negativo. L'indicazione dei poli della batteria sono riportati direttamente sulla scheda madre, sono indicati esattamente accanto al connettore. Come è possibile riscontrare? Nella parte anteriore della batteria sono riportati i rispettivi ingressi delle varie connessioni che vanno poi all'interno della batteria. Abbiamo polo positivo, polo negativo, la messa a terra, la porta di comunicazione 2 che al momento non è utilizzata, la porta COM 1 che sarà quella associata alla comunicazione tra batteria e storage ed infine la VAN che sarebbe la porta Ethernet. Terminata l'installazione della parte elettrica e di comunicazione, è possibile ora passare all'installazione del cavo di comunicazione tra batteria BYD e SMA Sunny Boy Storage. Mettendosi in posizione frontale rispetto alla batteria, saranno visibili due morsettiere, composte ognuno da 10 pin. Va utilizzata la morsettiera parallela all'ingresso COM 1, quello riportato all'esterno del case. I pin che dovranno essere connessi sono rispettivamente il 2, il 4, il 6 e l'8, rispettivamente da destra verso sinistra. Il numero del pin è possibile leggerlo direttamente sulla scheda, così da non fare confusione. Il cavo di comunicazione che dalla batteria deve andare al Sunny Boy Storage deve essere fatto passare per questo pressa cavi, relativo al COM 1. Una volta inserito all'interno del pressa cavi, nel nostro caso abbiamo connesso i 4 pin richiesti, vale a dire 2, 4, 6 e 8. Nell'ordine, nel nostro caso, sono marrone il pin 2, bianco il pin 4, giallo il pin 6 e verde il pin 8. Per inserire il cavo Ethernet all'interno della batteria è necessario inserirlo senza il connettore RJ45. Rimuovere quindi il pressa cavo, inserire il pressa cavo nel cavo, inserire il cavo, chiudere il pressa cavo e crimpare il cavo una volta serrato il pressa cavo. Una volta crimpato il cavo all'interno del vano batteria è possibile andarlo a inserire nell'apposito connettore RJ45. Lato storage abbiamo bisogno di 5 pin, rispettivamente i 4 che andranno a completare la comunicazione con la batteria BYD, più la schermatura, che a differenza lato BYD, nello storage è obbligatoria. Prendiamo ora il nostro connettore per la comunicazione, dove rispettivamente troviamo nella parte alta, da sinistra verso destra, i pin A, B e C, mentre nella parte inferiore, sempre da sinistra verso destra, D, E ed F. Una volta rimossa la cover nera di protezione è ora possibile raggiungere il vano dove è possibile andare a connettere le due morsettiere, rispettivamente AC e comunicazione con sistema d'accumulo. Nello specifico si troveranno la parte AC qua a destra, la parte di comunicazione centrale accanto alla porta RJ45 per la connessione Ethernet. Sul connettore verde in dotazione, lato AC, sono riportate le sigle dove devono essere connessi i relativi cavi L, N e PE. Installati i cavi all'interno del connettore sarà poi possibile inserirlo nell'apposito alloggio all'interno del Sunny Boy Storage. Passiamo ora alla connessione del cavo dati tra batteria BYD e Sunny Boy Storage. Il cablaggio tra la batteria BYD e il Sunny Boy Storage deve essere fatto in questo modo. Il pin 2 della batteria deve essere connesso con il pin B del inverter Sunny Boy Storage. Il pin 4 della batteria deve essere connesso con il pin C del Sunny Boy Storage. Il pin 6 deve essere connesso con il pin E del Sunny Boy Storage ed il pin 8 deve essere connesso con il pin D del Sunny Boy Storage. Ricordo che la schermatura è fondamentale, obbligatoria e deve essere connessa nel pin C. Inserire quindi il cavo all'interno della pressa cavo. e inserire il cavo all'interno del foro. Sarà ora possibile completare l'installazione andando a inserire i pin nei relativi alloggi. Installati i cavettini all'interno del connettore sarà poi possibile anch'esso inserirlo all'interno del suo relativo vano. Passiamo ora alla connessione del cavo Ethernet. Anche il cavo Ethernet dovremo farlo passare nello stesso pressa cavi della comunicazione. Quindi lo facciamo passare da qui. Verrà inserito nello stesso foro del cavo di comunicazione dati. E avremo questa condizione. Lato AC, comunicazione batteria, comunicazione Ethernet. E' ora possibile andare ad inserire i relativi connettori all'interno dei propri alloggi. Partiamo da quello Ethernet. Passiamo poi a quello di comunicazione. Ed infine quello di potenza. Chiudere quindi la mascherina, i relativi pressa cavi e stringere le tre viti presenti con un Torx da 25. La connessione è completa. L'installazione del sistema di accumulo Sunny Boy Storage BYD è così terminata. Non rimane che alimentare la C e la DC rispettivamente dai propri interruttori.